... Abbiamo ospite oggi alla Gazzetta di Modena Andrea Bertolini, un pilota modenese che non ha bisogno certamente di presentazioni. Sarà lui uno dei testimoni al modenese di questo Modena Valley Fest che inizia nel fine settimana? Sì, sarà un evento importante per noi modenesi ma per tutto il mondo e quindi per Modena che ha i motori nel sangue sarà davvero un evento speciale, saranno tante manifestazioni, tanti eventi nell'evento e uno di questi sarà l'esibizione che faremo con la Ferrari al parco Novi Sad. Quindi vi aspettiamo perché spero di farvi divertire tanto. Tu che sei abituato a fare esibizioni in giro per il mondo, in Cina, in Russia, cosa proverai nel girare sulla Ferrari nella tua città? Beh per questo devo ringraziare la Ferrari e Antonello Coletta, il nostro responsabile perché comunque sì, sono sempre in giro per il mondo a fare queste esibizioni con le Formula 1 ma per me è modenese, essere qua nella mia città a fare questo tipo di esibizioni, di evento sarà un qualcosa di emozionante quando sei la guida della Ferrari di Formula 1. Tra l'altro tu un'esperienza simile l'hai già vissuta nel 2010 però allora eri al volante della Maserati. Sì, vinsi il mondiale nel 2010 con la Maserati MC12 e feci un bel giro in centro con la macchina da gara, fu molto emozionante vedere proprio tutti i modenesi guardare la macchina, insomma è stata davvero un'esperienza speciale e questo deve essere ancora di più, speriamo davvero di far divertire perché Modena è la forza del motosport. L'evento clou di questa tre giorni sarà il pit stop al Novi Sad con la Ferrari, dacci qualche anticipazione di questo evento. Beh guarda, a dirti la verità, dobbiamo ancora visionare un po' quello che sarà il percorso ma sicuramente faremo tanto rumore e spero davvero di far divertire tutto il pubblico modenese e non solo. Un ringraziamento ad Andrea Bertolini per la sua disponibilità e appuntamento a tutti per il Motor Modena Valley Fest che si trarà in questo fine settimana.